Come si può smaltire i rifiuti di un'altra regione? Anche se una regione si trova in difficoltà, cercare di aiutarla non è un cattivo pensiero. È un problema grosso, anche loro si devono adattare, devono accettare l'inceneritore, devono accettare non sempre questi patumi, portarli da una regione all'altra. Credo che sia ora di risolvere in maniera drastica e poi cambiando anche un po' la mentalità, magari facendo molto più riciclo come qua ad Argenta, sono tanti anni che si fa. Chi ha quelle responsabilità lì si è comportato in maniera scorretta e non ha fatto il suo dovere. Non è giusto che le altre regioni si accollano le responsabilità di altri perché quello lì sono rifiuti che non abbiamo prodotto noi qui nella nostra zona, sono rifiuti che hanno fatto loro, se li devono gestire loro. Grazie. 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 Grazie.